Un bambino paralizza i medici quando lo hanno visto nascere dopo 4 giorni di travaglio. Nonostante l'arduo lavoro, questa madre è stata premiata con la meravigliosa accoglienza nel mondo del suo piccolo figlio sull'Ivan, nato con un'espressione di gioia senza pari. Il neonato ha davvero affascinato l'intero team medico, ma soprattutto Angel Taylor, sua madre, che è stata in travaglio per 4 lunghi giorni. Angel era stata costretta a partorire una settimana prima del previsto dopo il controllo medico in cui era stata diagnosticata la pressione alta con un alto rischio di rottura uterina, che poteva avere gravi conseguenze. Dopo l'intenso travaglio, Angel ha subito un taglio cesareo. Infine, sull'Ivan è nato con le braccia spalancate e con un grande sorriso che ha sorpreso tutti i presenti. Queste meravigliose immagini sono state scattate da Laura Shockley, che è riuscita a catturare ciascuna delle espressioni del neonato quando è venuto al mondo. Le sue braccia aperte e il suo sorriso erano un omaggio alla vita. Sua madre lo ha descritto come il bambino più piccolo. È molto dolce e calmo, adora le coccole. Non piange quasi mai. I miei figli più grandi lo adorano e vogliono solo abbracciarlo. Angel ha detto che sull'Ivan è tornato a casa come se fosse sempre stato a casa. Per questa famiglia è stato un grande sollievo averlo dopo tutto lo stress della sua nascita. Quando Angel è stata ricoverata in ospedale il 5 marzo, non era dilatata e i medici hanno indotto il travaglio con piccole dosi di ormoni per provocare contrazioni. I medici erano molto preoccupati per l'elevato rischio che la madre avesse una rottura uterina, perché nell'ultima gravidanza aveva avuto un taglio cesareo e il suo utero era molto probabilmente indebolito. I medici volevano impedire che ciò accadesse perché sarebbe stato estremamente doloroso o impossibile e questo avrebbe significato rischiare entrambe le vite. Dopo aver trascorso tre giorni in ospedale, Angel era ancora dilatato di 4 centimetri, alla fine i medici decisero di non proseguire con l'induzione del travaglio, poiché un parto naturale lento era troppo rischioso. La paura dei medici è stata confermata quando hanno scoperto che era impossibile per sull'Ivan uscire attraverso il canale del parto e lo hanno informato che era necessario un taglio cesareo. Si è scoperto che aveva un sacco di tessuto cicatriziale sul fondo dell'utero e non si apreva. Il bambino era molto stretto. Era davvero intrappolato. Per fortuna sull'Ivan arrivò quasi a mezzanotte del tutto ignaro dello stress causato dal traumatico parto. Ero molto divertente perché pensavo che sarebbe stato così dentro di me, faceva sempre Spretkin. Venire al mondo con le braccia e le gampe tese e con il sorriso stampato in faccia è stato meraviglioso. La nascita di sull'Ivan è stata immortalata in una galleria di immagini davvero accattivanti. Condividili. La nascita di sull'Ivan uscire attraverso il canale del tutto è stato meraviglioso. Grazie. Grazie.